bello a tutti ragazzi e ragazzi sono qua con le due mie cugine Dalila e Marika sono sorelle se l'ho iniziato il video ora con le armi e con Egya in partite perché ho avuto dei piccoli problemi quindi salutate e presentatevi Dalila e Marika io sono Dalila sono più grande che Paolo e abito dove abitano oramai che tocca a te ciao io sono Marika sono un anno più piccola di Paolo sentosissima miagolare sì abito anch'io vicino a Paolo perché sono nella stessa casa vita solo che loro sono di Palermo come me e anche della Sicilia solo che hanno la casa Udine però se ne vanno a fine agosto Paolo Paolo quando hai sentito Sissimi agolare era davanti a me che mi fissava comunque noi ci siamo trasferiti a Udine perché il nostro papà è stato trasferito là per lavorare perché il suo padre va in guerra deve portare la pace con le guerre e se nessuno l'accetta allora usa le maniere forti le armi pensa che l'hanno accorto oh raga aspettate che invito il capo del team sono venute delle persone alla scuola hanno parlato proprio di dei militari che erano andati in Afghanistan come nostro papà ok raga invitate il capo del team in cui siamo io e Dalila a proposito del team se volete entrare nel nostro team potete scrivere nei commenti come vi chiamate che vi mandiamo la revisione e se volete fare i provini ma Paolo quando finisce la partita? eeeh fra poco insomma mi mentò potete chiamare se anche se io adesso sono scarsa ok ok eeeh eeeh io sto laggando io sto laggando vabbè comunque William è con 8 persone quindi non credo che sia questo infatti prima era andato nel team di William e io c'erano un botto di persone eeeh eeeh o 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 per poterti iscriverti. Ho due lucciole. Dagli, già tu hai l'account di YouTube. No. L'account per iscriverti, quello. No. Ho tre lucciole. Paolo, ma da dove hai fatto tu l'account? Quattro lucciole. Ah no, io mi sono fatto l'account di YouTube per iscrivermi. Allora così mi è venuto in mente di iniziare a fare video. Tutto oggi mi sta venendo, eh. Paolo, ma da dove hai fatto questo account per iscriverti? Dalla play. Tutto io ne so bene nella lucciola. Dove ci c'è la play. Lucciole. Vieni. Altre lucciole. Allora se io me le faccio anche io avrò un mio profilo. Dove farò magari video di... Dalla l'acqua è piena e dietro il lucciolo. Lucciola. 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 Sì, sì. Sì, sì che continua a miagolare. Ok. Quello che avete appena sentito è il fratello di Paolo. E non questo che sta miagolando. E non questo che sta miagolando. Eh! Si è nascosto nel bagno. Nel bagno. Dai proteggimi. Questo proteggerà. Dice che è rosa la male. No. Oh, miaglia. Paolo. Eh. Paolo, mi hai tolto la corsa automatica. No. Paolo, te si fa male? No. La puoi accarezzare, peggio. La puoi accarezzare, peggio. Sei, Paolo, corsa automatica no. Ma poi non ti ho levato niente. Dai, Lila. Ce l'avevo da sola. Ti amo una volta che mi sei la fatta sola. Paolo, tu l'hai mai fatta? Che gli fai vedere il tuo dito e lei te lo segue? Ah, sì, sì. Sì. Sì, sì, gli ho fatto il dito meglio, però non ho fatto niente. È mia la cassa. Mi sento attacco, era qualcosa. Oh, aug. Vabbè, non la voglio. Vieni, prendetelo là, non la spi. Questa è mia, Paolo, dicesse. Non mi interessa. Ah, prenditelo. Paolo, cerca di scendere, vieni. Ah, vieni, cazzo. Io stavo guardando, io stavo guardando a Paolo e ho detto che non è cazzo. Va, lì sono fuoco. Sì, vieni, sono fuoco. Hai i cure. Sì, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Naaaaaaaaa Paolo Mah, le puccele, le puccele, le puccele Paolo Nooooo Ehi Marika Ma ti puoi mettere la pucce Tanto piano Tanto piano Sennò non sento osseo o urla. No, ne devi mettere tu perché di punto piano c'è no. Mi senti bene ora? Sì. Abbandonato, ma a te, a te Sissi ti ha mai leccato? Sì? Sì. Sì. Cioè no. Aaron. Abbandona la bambina. A me Aaron. Sì, sì. Sì, sì. Che succede Monica? Si continua a strofinare su di me, mi fa il solletico. Anche a me lo fa, ma vedi che lo fa perché vuole la palazza. Ma io questo. Io tolto. Hai le mani bagnate, levati via. Pietro. Sì. E' stata pronta? Allora io tolto. Aspetta. Io tolto. Sì sì. Allora io tolto. Ma cos'è? Io tolto. Dai, metti pronto. Ah, non c'è più. Lei è il gottero. Ah, non c'è più. Cosa è ma? Non è niente. Lei non è niente. Sì. Aspettate un attimo che vado a dire una cosa a mia mamma. Mettete la broga. Sì. Che cosa è qui? No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Che cosa è qui? Ah, no, no. Ah, iaiaiaia. Vabbè raga dai, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.